Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video e bentornati alla guida di... Pokémon Rosso Fuoco! Ok, ora possiamo andare finalmente nell'erba alta C'è sto bimbo che dice Guarda qui ho occupato una frase scritta da un cartello di consigliutini Consigliutini, bimbi, snedini Shut up, bitch Oh, primo Pokémon salvatico, e chi incontriamo? Rattata, bitch Ok, vai con graffio Vai, uccidilo, bam Usazione Ma che cavolo che ti toglie? Madonna, è forte sto Rattata Io Rattata ovviamente non lo catturerò perché è proprio shit big of Oh yeah, a livello 7 C'è almeno in sala di... dovrebbe imparare il bracere Esatto, c'è almeno in sala di bracere Yes, bitch Ok, adesso andiamo di qua Ok, non abbiamo incontrato niente 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 Ok, niente, niente ragazzi Finalmente siamo a Smeraldopoli La seconda città, come potete vedere Ed ecco che c'è il centro Pokémon Entriamo Ok, vai, siamo in centro Pokémon Shuda, Vuda, Cuda, Barracuda Sì, sì, ciao, 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 ciao Ok Ok, vediamo sto bimbo cosa vuole Se ci c'è qualcosa di informazione sulle due specie di Pokémon simili a Bruki No, grazie, so già come sono Oh, va bene Bravo Allora Adesso... No Andiamo un attimo sopra Ah, vedete, qua non si può passare perché c'è sto vecchio Proprietà privata, scusa Quindi bisogna andare per di qua E c'è un altro percorso qua Quindi vediamo se riesco a catturare qualcosa Dai che voglio catturare almeno due Pokémon Forza Oh, vediamo se trovo Ok, eccolo qui Proprio lui volevo catturare Vai così Vai con Graffio Lui da Graffio pure Vai così ancora Ok, adesso lo posso catturare, dai Allora, Zaino Ah no, non posso ancora catturarlo, è vero Diego Allora, Graffio Shbam Brutto colpo Almeno riceve 31 punti esperienza Va bene Facciamolo salire almeno all'otto, dai Un Rattata schifoso, livello 5 Dai, almeno ci fa salire subito Vai con Bracere Bam Come? Così tolto? Così poco li ho tolto Vabbè, allora facciamo Graffio Ah, vabbè Oh, ha fallito Oh, ho fallito Ho infallito Ok 40 punti esperienza Dai che è quasi salito ancora Dig off Ok, dai, vediamo Ok, livello, sì, sì, va bene tanto Allora, vai con Bracere Dovrebbe crepare, vediamo No, non crepa Oh, è stato scottato Ah, ah, ah Poverino Soffre per la scottatura Vai così Ok 24 punti esperienza E saliamo di livello Siamo a livello 8 Ora andiamo un attimo a curarlo Al centro Pokémon Andiamo di qua Vai così Sei in un centro Pokémon? Sì, 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 sì Ok Arrivederci Ok, adesso Andiamo Di qua Che dovremmo incontrare Mi sembra Gary Mi sembra, eh Non ne sono sicuro Ok Qua adesso lo incontriamo Vedete, guardate Ah, non lo incontro? Strano Non ricordavo che lo incontravo Vabbè Bracere Mi ricordo proprio male Allora Vabbè Ok, questo è crepato Pure Ok, qua dove siamo? Ah, sì, guardate qua Se noi entriamo qua, no? Noi cerchiamo di passare Fa solo i veri allenatori Possono passare Non hai ancora la medaglia sasso Le regole sono regole Non puoi passare Vedete qua Tutte le sedere statue Vuol dire che Questa è la Lega, ragazzi Esattamente La Lega Eh, sì Ci possiamo tornare solo Quando Come si dice? Ah, qua intanto Cioè Possiamo andarci solo Quando abbiamo fatto Tutte le palestre, ovviamente Va bene Reggi molto attentamente La lavagna Mattaci Scusate ragazzi Non è che ho dimenticato Qualcosa da fare Indietro Nelle zone prima Di sicuro Di qua dove si va? Niente Di qua, di qua, di qua Di qua Niente Ok Secondo me Ho dimenticato di fare Qualco Vabbè Ah, un PJ Tanto Lo voglio catturare Mannaggia Dai che sei quasi crepato Forza Raffio Ok 23 punti esperienza Dai che sale pure al 9 Troppo Secondo me Ho dimenticato di fare Qualcosa qua Un Rattata Vai con un Brasher La evoluzione di Rattata Mi ha fatto troppo scassare Non so perché Un Pokémon Un barbone Cioè Dai Ammettetelo Fa schifo Dai Non è che devo tornare Da lui Forse Ok Ma adesso Il tuo piccolo Poi come facendolo Lottare Eh Ho capito Ma cosa devo fare? Cosa devo fare con La madre? Ok Mi hanno detto Li portati un po' Vabbè Vabbè Ok Mamma Ma va bene Ciao Ciao La devo parlare con lei Scusate che devo fare? Che mo' Mi ha detto che ho avuto contro Che ho avuto contro il gare Peccato che non vi ho visto combattere E quindi È una mappa enorme utile Ma come faccio a prenderla? Ma what the hell? Ciao lavoro Ah ci ha dato una pozione Va bene Ok qua intanto incontriamo Un Rattata Facciamo lì Graffio E crepa su Oh brutto colpo pure Perfetto Vabbè che siamo quasi saliti di livello Questo invece cosa vuole? Vedi quei dislivelli lungo la strada Fa un po' paura Ma lì puoi saltare Così puoi tornare in biancavilla Ma per favore Fa paura Ok vai Vai con bracere E lucifazione Schifoso Ok 32 punti esperienza Perfetto C'è almeno la sala a livello 9 Ok Ma ragazzi Ma cosa bisogna fare? Cioè non Cosa devo fare scusate? Cioè non c'entro Pokémon Sì 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 C'è 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 Ma com'è possibile? Devo per forza fare qualcosa Ah ehi Arriva da bancavilla Ah ma dico È arrivato quello spettacolo Lo puoi portare tu? Eh esatto Devo portare il pacco di OAC Ora possiamo andare indietro Perfetto Tanto con la velocità suprema Dell'emulatore Che si velocizza Con la barra spaziatrice Facciamo tutto No dico Vabbè dai Almeno salgo di livello Vai 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 con graffio Vai 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 Crepa 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 C'è fatto brutto colpo Schifoso Mojoon Eh dai Non è possibile Vai con graffio Dai 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 Eh colpo coda Ma cosa vuoi fare? Dai dai Meno male che posso velocizzare tutto Ok Ecco cosa dovevo fare Che non mi ricordavo Ma fa Ok come sta il mio vecchio pokemon Beh se mi piace di molto Di avere il talento Come la natura di pokemon Cosa è qualcosa per me Che è me Questa è il pacco di OAC Esatto Ah esatto Ma arriva lui Perché mi hai fatto venire? E vuoi chiedermi in questo favore Ecco ma ci da il pokédex Sapete tutti cosa è il pokédex E ci da pure 5 pokéball Così possiamo catturare adesso mankey Dai Dai Perfetto nonno Ciao 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 Ok ragazzi Questa seconda parte finisce qua E ciao 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 ciao